I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro del comando provinciale di Caltanissetta unitamente agli ispettori del lavoro civili hanno proseguito i loro controlli continuando a scoprire lavoro nero e violazioni della sicurezza in edilizia. Gli operanti nel complesso hanno controllato quattro ditte, verificate 35 posizioni lavorative, scoperto 16 lavoratori in nero su 35 presenti in tre diverse aziende, tutte sottoposte alla sospensione dell'attività imprenditoriale con conseguente oblazione di 1.950 euro per ogni sospensione e una maxi sanzione di 4.000 euro per singolo lavoratore, nonché contestate sanzioni amministrative per complessive 152.371 euro. Nel corso delle operazioni i militari hanno controllato un cantiere di lì a Butera in cui hanno rilevato oltre i quattro lavoratori in nero su altrettanti presenti, la mancata formazione e informazione dei lavoratori, la mancata visita medico obbligatoria, l'omessa consegna della lettera di assunzione, la mancanza del libro unico del lavoro del registro infortuni, attività imprenditoriale quindi sospesa per lavoro nero, in un secondo cantiere di lì a Campofranco in cui è emersa la mancata registrazione di 10 lavoratori presenti sul libro unico del lavoro, la mancata e ritardata corrisponzione degli assegni familiari, dell'indenità di malattia, la mancata comunicazione dell'avvenuto licenziamento della maestranza occupata, mancata preventiva comunicazione di assunzione, un primo ristorante a Caltanissetta in cui contestavano al titolare dell'esercizio l'impiego di 3 lavoratori in nero su 9 presenti e attività imprenditoriale sospesa per lavoro nero, un secondo ristorante sempre a Caltanissetta in cui contestavano al titolare dell'esercizio l'impiego di 9 lavoratori in nero su 11 presenti, in questo caso attività imprenditoriale sospesa per lavoro nero.